Tu hai detto, poi io ho cominciato a studiare danza, però quando poi sono diventato ballerino, certamente... Perché hai queste preplessità? Io ti trovavo molto bravo. Ma guarda, io credo che la... Cioè, in questo lavoro bisogna anche avere la consapevolezza, no? Di quello che fai e di come lo fai. E io a un certo punto ho capito che comunque, nonostante avessi avuto delle bellissime esperienze con la danza, non avrei potuto vivere solo di questo. Perché poi, soprattutto nella danza, devi essere... è un'elite di artisti, no? Le grandi etuali... Cosa ti mancava? Una etualetta. Cosa ti... Piccolina. Non era il mio caso, capito? Ma cosa ti mancava secondo te? Cosa ti mancava? Perché mi ha incuriosito molto questa dichiarazione. Ma guarda, io... a me, come un po' a tutti quelli che fanno un mestiere di palco, mi piace fare la differenza. E sapevo di non fare la differenza, nel senso, potevo essere tranquillamente sostituibile a un altro bravo danzatore, capito? Invece a me piace provare a fare la differenza. E forse in quest'altro mestiere posso... Che è quello del conduttore. Posso trovare... Posso trovare il mio modo di fare le cose in maniera più unica, no? Perché si può fare in tanti modi diversi. Si può fare meglio, peggio. Io cerco di trovare la misura giusta, insomma. Senti Stefano, te la cavi benissimo. Dai, adesso non ti voglio fare i complimenti, però te la sei cavata benissimo. Non c'è bisogno, anche perché tu mi vuoi troppo bene. I tuoi complimenti non vanno. Sono un po' di... No, no, non è vero, te lo direi, ti direi, guarda, senti... Vabbè, non davanti a tutti. No, 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 sai, tu, io so pure che dice quello che pensa, eh, tu lo sai. Ascoltami, ma papà, com'era papà come ballerino? Papà era un grande ballerino e proprio lui, in realtà, all'inizio mi ha negato gli studi della danza, perché lui sapeva quanto fosse difficile vivere di arte, di danza soprattutto, quindi non voleva che io studiassi. Per non avere delusioni? Esatto, e quindi alla fine... Proteggeva, in qualche maniera. Mi proteggeva, mi proteggeva e mi ha insegnato come si fa a far fare quello che vuoi a un figlio, bisogna negarglielo. Quindi io quando voglio che mio figlio faccia qualcosa, gli chiedo di non farla. Ma tu già piccolino però ti sei amare, perché tu finivi scuola, andavi al bar stella e ballavi. Allora, vediamo questo bellissimo filmato, tenero. La danza è stata la prima cosa con cui ho avuto a che fare, che mi ha fatto pensare di poter riuscire ad arrivare in punti che mai avrei immaginato. Io ti vengo a guardare. Io sono di Torre Annunziata, Torre Annunziata, Sud Italia. Io avevo dieci anni quando ho cominciato a fare danza, quindi era comunque una scelta anomala. Prendi il cielo con le mani. Mio padre era un ballerino di danza classica, quindi andando a vedere gli spettacoli di mio padre non riuscivo a stare fermo in platea. E quindi in platea, tipo nei corridoi, tra le poltrone, io mi esibivo. Lui cercava di mettermi in fila tutti i punti difficili. Ci sono ore e ore di esercizio dietro, non guadagnerai una lira. Ma io ho detto, va bene lo stesso. Quando mi ha visto così determinato mi ha detto, figlio mio, in bocca a lui. Balla il mistero, in questo mondo che brucia il freddo, quello che è ieri. Che tenerezza però lì, perché lì dove eri? Lì ero all'interno del bar Stella, che è stato lo sfondo di tutta la mia infanzia. E' questo posto che mio nonno ha costruito praticamente per noi e che in qualche modo poi abbiamo riaperto. Prima il tuo bisnonno però. Il mio bisnonno, sì, che io chiamo nonno Michele, anche lui. Poi il mio nonno Stefano, da cui ho preso non solo il nome ma credo tante altre caratteristiche della mia personalità. E in qualche modo, siccome tutta la famiglia era un po' orfana di questo bar, perché poi a un certo punto l'attività ha chiuso, il mio modo di glorificare la vita di mio nonno, dei miei nonni, è stato appunto dare il titolo al primo programma che ho scritto come autore con altri autori.